Come è stato l'impatto con il nuovo tecnico? Come ha detto ieri, è un allenatore che vuole cattivare in campo, vuole aggressività e vuole anche gioco. Quindi noi cercheremo di tirare fuori tutte queste qualità che ci ha chiesto il mister e di centrare la salvezza il prima possibile. Cos'è che deve fare l'Arezzo per venire fuori dalla zona play-out? Si dice che è mancata un po' di continuità a questa squadra, che è un po' un riternello che c'era anche l'anno scorso. Sono le famose tre vittorie di fila che non sono arrivate mai. È un po' questo il vero problema o c'è dell'altro secondo te? Ma no, un po' di continuità ci è mancata perché anche domenica non dovevamo perdere. Magari venivi via da là con un pareggio e era sempre un punto che mettevi nella classifica. Però, come hai detto te, anche l'anno scorso siamo arrivati ai secondi e non ci è riuscito mai a vincere tre partite di fila. Quindi è un limite che abbiamo come gruppo perché le qualità per vincere tre partite di fila ci sarebbero come squadra. Però sono dovuti da tanti fattori che non so nemmeno quali sono. Come hai visto abbiamo vinto la partita con la Ponte Vecchio e con il Pier Antonio in casa. Poi siamo andati a scandirci con tutti gli attenuanti, però abbiamo perso. Non siamo riusciti a fare punti. Il problema c'è e rimane. Ripensando a quello che è successo da luglio a oggi, cos'è che ha influito di più? La situazione societaria prima ne avevi fatto cenno. A un certo punto non si capiva se sarebbe andato avanti con quella dirigenza, se sarebbe cambiata. Cambi di allenatore, cambi di giocatori. Cosa è che ha influito di più secondo te? Sono sosseguiti tanti fattori. La società, dei ragazzi che c'erano anche l'anno scorso che se ne sono andati. Anche se erano legati molto alla maglia come Mario, Lorenzo. Non sto a fare tutti i nomi, ma tutti. Ci sono state delle problematiche. È stato un periodo non buono, che perdevamo in casa, non ci riuscivamo a vincere in casa. Ora, diciamo, da gennaio sono arrivati questi ragazzi nuovi che hanno dato una grossa mano alla squadra, come Piccolo, Zaccanti e tutti gli altri. Ci stanno aiutando, è uscita questa situazione di classifica. Sono convinto che ci riusciremo il prima possibile, perché le qualità del gruppo ce l'hai. Queste non le metto in discussione, perché lo vedo tutti i giorni all'allenamento, quindi i miei compagni gli do fiducia. Ecco, Domenica c'è lo Spoleto. Non voglio dire che è una prova del 9, perché si dice praticamente ogni settimana. Però, in effetti, dopo tutto quello che è successo, è una partita abbastanza delicata, considerando che poi dopo c'è la sosta. Domenica è una partita delicatissima, perché noi siamo stati risucchiati dalla partita di Domenica e quindi dobbiamo assolutamente fare i punti, cercando di mettere cattiveria in campo, ma anche il gioco, perché la squadra ha le qualità anche per giocare. Ti chiedo un'ultima cosa a livello personale. Nofri si fida molto di te, sei un giocatore che è sempre stimato, l'ha detto anche ieri in conferenza stampa. Tu hai già segnato quattro gol in questa stagione, nonostante l'infortunio. Insomma, che giudizio dai della tua annata fino a questo momento? Ma guarda, mi dispiace essere stato infortunato quel periodo, perché è stato un periodo brutto che non riuscivamo a vincere. Magari se c'ero anche io in campo, devo dare una mano, ma poteva anche non servire. Però il mister, lo conosco, anche stamattina parlavo dell'avversario, quindi scherzavamo. Gli ho detto che ho vinto più volte io, perché magari lui qualche volta ha vinto il primo anno con il Castarricone, mi ricordo, poi l'anno scorso con il Todi. Però è un allenatore che conosce molto la categoria, conosce molti giocatori e è un allenatore molto preparato. Per me vorrei ringraziare anche Mr. Bacis, che personalmente mi ha insegnato tanto e credo che il suo lavoro lo sa fare ottimamente.